Presidente, questo emendamento illustra l'insieme degli emendamenti all'articolo 2. Sì, certo, all'articolo 2. Riguardano la durata del mandato del Rettore, la competenza del senato accademico e la composizione del Consiglio d'Amministrazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, la durata del mandato del Rettore, noi si ripristina con l'ammendamento 2.26, si ripristina con il testo della Camera che prevedeva non un unico mandato di 8 anni, ma prevedeva anche la possibilità di due mandati di 4 anni non superiore agli 8 anni. Quindi ripristiniamo il testo della Camera dando l'opportunità sia di un mandato di 6 anni sia di due mandati non superiore agli 8 anni. Per quanto riguarda l'articolo 2.32, che riguarda sempre il mandato del Rettore, si dice che il periodo non può essere cumulabile con mandati svolti in altri Atenei. Rispetto alle competenze del senato accademico, la lettera E, l'articolo 2, noi qui ripristiniamo il testo del senato e sopprimiamo la parola obbligatorio data alla competenza a formulare proposte e pareri in materia di direttive di ricerca. Perché, come è stato discusso in Commissione, apporre il termine obbligatorio al parere significa che ogni volta dovrebbe essere, perché o c'è una competenza a formulare e allora non c'è bisogno di apporre l'aggettivo obbligatorio oppure no. così come al 2.46, al comma 1, alla lettera E, ripristiniamo una semplificazione che era già avvenuta alla Camera. Il 2.51 riguarda la mozione di sfiducia del Rettore, al comma 1 della lettera E, e si passa da due terzi per poter esprimere la sfiducia a un terzo. In effetti, avendo tolto alla Camera la possibilità di due mandati di 4 anni, non superiori agli 8 anni, quindi c'è soltanto un unico mandato di 8 anni, dire che ci occorrono due terzi per la sfiducia significa anche rendere tutto più rigido. e quindi diciamo appunto che abbassare la quota a un terzo per la sfiducia delle componenti significa appunto rendere perlomeno, dare l'opportunità di un maggior controllo e di una maggiore flessibilità. Poi nel 2.56 ritorniamo sempre l'aggettivazione di obbligatorio al parere per le motivazioni che ho dato, così come richiediamo di ripristinare il testo del Senato al 2.62 e al 2.76. Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione, non modifichiamo il testo della Camera, comma 1 alla lettera I, perché il testo della Camera parla di necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale per quanto riguarda i componenti del Consiglio di amministrazione. Ora, che significa necessaria attenzione? O si attesta la qualificazione oppure non si prende in considerazione questo aspetto. Quindi noi introduciamo, affermiamo che occorre scrivere attestata qualificazione scientifica e culturale al posto di necessaria attenzione. Ecco, per quanto riguarda l'articolo 2, per ora mi limito a esprimere, a giustare questi emendamenti. Grazie. Grazie, senatrice Serafini. A questo punto io ora sospenderei perché gli interventi hanno a disposizione 10 minuti, quindi è chiaro che se uno parla 10 minuti...